Non abbiamo bisogno di una figlia fallita. Il giorno in cui mi sono diplomata, la mia famiglia mi ha abbandonato. Quando tornai a casa, la casa era vuota. Alla fine sono riuscita a contattare mia madre al telefono, ma i miei genitori e Marina non hanno fatto altro che ridere del mio panico. Sembra che la mia famiglia, me esclusa, abbia deciso di trasferirsi a New York perché Marina ha superato il provino in un'agenzia di modelle. Marina diventerà la top model degli Stati Uniti. Allora, cosa puoi diventare tu, Sara? Non ho la gamba sinistra. Significa che non valgo nulla? All'inizio ero disperata, ma essere abbandonata dalla mia famiglia mi ha dato la libertà. Un giorno farò in modo che la famiglia che mi ha abbandonato se ne penta. Sono Sarah Parker. Ho 27 anni. Vivo con i miei nonni paterni. Sì, nonno. Ho sistemato il bottone della tua camicia. Oh, grazie. Sara, sei molto brava a cucire, vero? La nonna non sa quasi più infilare un ago. Non c'è problema. Lascia fare tutto a me. Battendomi il petto, il nonno strinse gli occhi e disse, sei così affidabile. Aggiustare un bottone della camicia? È il minimo che possa fare. Voglio che si affidino a me per qualsiasi cosa. Dopotutto, i miei nonni sono i miei benefattori. Sembra passata una vita. Il ricordo più antico che ho vagamente è la strana sensazione di non avere una gamba. All'età di tre anni ho perso la gamba sinistra sotto il ginocchio. Il mio ricordo è piuttosto debole, ma mi viene ancora la pelle d'oca a ricordare il dolore e quanto odiassi fare quelle ripetute iniezioni. Ma più che il dolore, ciò che era insopportabile era la solitudine in ospedale. Mamma non è venuta nemmeno oggi. Verrà domani? Chiedevo. L'infermiera mi faceva un sorriso ambiguo. Verrà sicuramente domenica. Mi sentivo confortata, ma non accadeva mai quello che mi era stato detto. Le gentili bugie delle infermiere non facevano altro che aumentare il mio sconforto. Di solito, quando un bambino non conosce limiti. Non fui in grado di camminare per un po', il che mi portò a una vita di limitazioni. Ma ricordo di aver camminato normalmente quando ero alle elementari. Avevo una protesi alla gamba. Purtroppo a volte ero costretta a non partecipare alle lezioni di educazione fisica, ma potevo salire le scale e persino correre un po'. Non c'erano quasi ostacoli nella mia vita quotidiana. A scuola non venivo trattata in modo diverso e avevo degli amici. Mi piaceva la scuola. Vorrei poter rimanere a scuola per sempre. Perché a casa non c'è posto per me. Tada! Ho provato il vestito nuovo. Come sto? Carina? Mia sorella Marina, che a due anni più di me, si è messa a volteggiare. La sua gonna morbida con le balse si allargava come un fiore. Marina, sei così carina. Proprio come una modella. Mia madre elogiava Marina. Mio padre scattò foto di Marina da varie angolazioni, con la macchina fotografica in mano. Marina, come se fosse naturale, sollevava il mento con orgoglio. Marina sta davvero bene con qualsiasi cosa indossi. Vorrei solo comprarle tutti i vestiti. Forse in futuro diventerà una modella? Le sue gambe sono così snelle, disse mia madre, con le mani sulle guance, muovendo i fianchi. Mio padre annui vigorosamente. Era chiaro che i miei genitori erano completamente innamorati di Marina. A circa dieci anni, ero l'unica a sentirmi fuori posto, pensando a quanto fossero sciocchi i miei genitori. Vero? Ho le gambe lunghe, vero? Mi sembra che siano più lunghe di tutte le mie amiche. Sì, sì, sì. Credo che Marina abbia le gambe più lunghe. Continuano ad allungarsi e io sono preoccupata perché tutti i vestiti carini diventano subito troppo piccoli, si lamentava mia madre. Marina si portò l'indice alle labbra. Normalmente, i vestiti che non mi vanno più bene possono essere passati a mia sorella, ma Sara non è normale. Ah, beh, perché lei non è normale? Tutti si lasciarono trasportare da loro stessi. Ma per qualche motivo mi guardarono con pietà. C'è una regola nella mia famiglia che prevede che mi si metta giù una volta al giorno? A dieci anni ero già in grado di accettare la realtà, ma in età molto più giovane ero dominata dalla tristezza e dalla rabbia. Marina ha sempre ondeggiato con gonne a balse come quelle indossate dalle bambole, mentre io ho sempre indossato pantaloni larghi. I pantaloni morbidi, grigi o neri, sembravano un pigiama, comunque li si vedesse. E poiché si abbinavano ai pantaloni, i top erano sempre t-shirt e felpe con cappuccio. Anch'io voglio indossare gonne carine. Una volta mi sono appellata a mia madre. Mi ha guardato con occhi spalancati, scioccati. Cosa? È impossibile, sai? La tua gamba non è normale, quindi non possiamo esporla agli occhi della gente. Non ti imbarazzerebbe se la gente vedesse la tua gamba? Non mi imbarazza. Tutti i miei amici sanno della mia gamba. Acceso? No, no. Anche se tu non sei imbarazzata, io lo sarei, quindi smettila. Se le gonne che rivelavano le mie gambe erano fuori questione, desideravo almeno indossare dei pantaloni di jeans alla moda. Eh, jeans. Sono tessuti duri, quindi difficili da indossare, giusto? Tua madre ti compra pantaloni facili da indossare per il tuo bene. Capisci la gentilezza di tua madre? Inoltre, i jeans sono costosi, quindi no. Ma tu compri molti vestiti per mia sorella. Davvero? Ti lamenti quando ti abbiamo comprato una gamba. Spendiamo di più per qualcosa di cui hai bisogno e tu ne vuoi ancora? Vestiti per tua sorella, una gamba per te. È ingiusto? Dimmi, è ingiusto? Sotto la pressione di mia madre, scossi la testa di no. Mia madre borbottò sottovoce. La tua gamba è stata costosa, sai. Stiamo pagando per qualcosa di cui la maggior parte delle persone non ha bisogno, per darti un lusso, eppure tu sei ancora avido. Non disturbare tua madre. Il giorno dopo, Marina tornò dal centro commerciale con mio padre, con i vestiti nuovi in mano. E fece una sfilata di moda davanti allo specchio. Nel frattempo, io ero bloccata nella stessa tuta dell'aereo, sia che dormissi sia che uscissi. Ho sempre desiderato di potermi vestire. Questo pensiero era sempre presente nella mia mente. Questo stile di vita non è cambiato nemmeno quando sono diventata una studentessa delle medie. In realtà, non vedevo l'ora di indossare l'uniforme scolastica, ma per lo più andavo a scuola in tuta. Sembra che mia madre avesse parlato con la scuola per preoccuparsi di me. La mia gentile mamma era riuscita a farmi passare per un bambino pietoso. Nelle rare occasioni in cui era richiesta un uniforme, indossavo pantaloni da ragazzo. Il figlio dei vicini, Brent, si era appena diplomato, e questo mi salvò. Sì, erano di seconda mano. Era solo perché era disponibile un uniforme da ragazzo, o si era data tanto da fare per nascondere la mia gamba. Non riuscivo a capire i sentimenti di mia madre. Avevo perso la capacità di provare emozioni e tenere come la tristezza e mi sentivo distaccata, come se stesse accadendo a qualcun altro. L'aspirazione di Marina a diventare una modella non faceva che rafforzarsi. Caricava sui social media foto alla moda come dolci in me o cielo azzurro in me e sorrideva per il numero di like che riceveva. Spesso mi veniva chiesto, anzi ordinato, di scattare foto per Marina e lei mi passava il suo smartphone. Rifiutarmi era troppo fastidioso, quindi mi limitavo a premere il pulsante di scatto. Ma i controlli di Marina erano piuttosto severi e mi obbligava a scattare una foto dopo l'altra, il che era fastidioso. Em, sì, mi sembra che vada bene. L'angolazione dal basso fa sembrare le mie gambe lunghissime. Questo va bene. Aspetta, cosa? Aspetta un secondo? E W. Sara si riflette nella finestra dietro di me. Marina cancellò immediatamente tutte le foto che aveva appena scattato. C'è mancato poco. Sarebbe la cosa peggiore se la gente scoprisse che ho una sorella come te. Sei così insensibile a comparire nelle mie foto. Non dovresti essere vista da nessuno. Pensa al tuo posto. Anche se ho aiutato a realizzare il servizio fotografico, questo è stato il trattamento che ho ricevuto. Non ho avuto nemmeno la forza di reagire, mi sono limitata ad accettare gli insulti di Marina. Non sono desiderata in questa casa. Sono solo d'intralcio. Lo capivo dolorosamente. Così cercavo di non provocare i miei genitori o Marina e vivevo come se fossi solo una parte dell'aria. Ma mai avrei pensato di essere abbandonata proprio al momento del mio diploma di scuola superiore. Che cosa è successo? Quando tornai a casa dopo la cerimonia del diploma, la casa era in disordine. Vestiti e una spatola erano stranamente sparsi sul pavimento. Ma non c'era traccia della tv, del frigorifero o dello specchio di Marina. Sembrava il risultato di un furto con scasso di tutti gli oggetti di valore. Mamma, non sei qui. Oggi mia madre non è venuta alla mia cerimonia di laurea. Guardandomi intorno, sembrava che fossi l'unico genitore a non essersi presentato. Se avessi avuto delle commissioni sarebbe stata una cosa, ma quando sono uscita di casa era ancora a letto. Il che probabilmente significa che non era interessata alla mia laurea. Lo strano stato della casa mi fece rabbrividire. Non mi importava di cose sostituibili come il televisore. Ciò che contava era se mia madre fosse al sicuro. E se avesse incontrato un ladro? Mi passarono per la mente gli scenari peggiori. Per quanto mia madre sembrasse indifferente nei miei confronti, ero in ansia. Controllai la camera da letto, il bagno, il balcone, ma non c'era traccia di lei. Provai a chiamarla al cellulare, ma non si connetteva. Allora provai a chiamare mio padre. Ma mi rispose la segreteria telefonica. Non riuscendo a stare ferma, continuai a chiamare mia madre più e più volte. Lo squillo risuonava incessantemente nel mio orecchio. Poi, all'improvviso, il suono si è fermato. Cosa? Era la voce di mia madre. Sembrava irritabile, ma sentii un'ondata di sollievo. Le lacrime mi offuscarono la vista. Mamma, finalmente hai risposto. Sono così felice che tu stia bene. Stai bene? Eh, ho spiegato rapidamente la situazione a casa. Poi, a metà strada, mia madre è scoppiata a ridere. Cosa stai fraintendendo? Non c'è stato nessun furto. Oh, davvero? Ma certo. Abbiamo appena traslocato. Cosa? Non ci avevo fatto caso prima, perché ero così disperata, ma il sottofondo all'altro capo del telefono era un po' rumoroso. Sentivo Marina e mio padre ridere. Ehi, ehi, mamma, cosa sta dicendo Sara? È nel panico, pensa che sia entrato un ladro in casa. Vedi, te l'avevo detto che avremmo dovuto lasciare un biglietto. Povera Sara. Non riuscivo a seguire la loro allegra conversazione. Ehi, Sara. Ci trasferiamo in città. Sai perché? Non potevo rispondere, perché non conoscevo la risposta. Indovina un po'? Sono diventata una modella. Marina ha superato il provino in un'agenzia di modelle e la mia famiglia, me esclusa, ha deciso di trasferirsi a Tokyo. Giusto. Visto che ti sei diplomata, te la caverai da sola, no? Avremmo potuto trasferirci prima, ma abbiamo aspettato fino ad oggi per te. Vedi la nostra gentilezza, vero? Si sono presi cura di me finché non ho finito la scuola dell'obbligo. Anche se ero destinato ad andare all'università, se avessi voluto frequentarla, avrei dovuto pensare alle mie finanze da solo. Cercare un lavoro part-time ora sarebbe impossibile. Mia madre sembrava divertirsi ad aggiungere, beh, se le cose stanno così, non si può fare altrimenti. Con il telefono ancora all'orecchio, mia madre sferrò il colpo finale. Marina diventerà la top moral degli Stati Uniti. Allora, cosa puoi diventare tu, Sara? Non abbiamo bisogno di una figlia fallita. Poi la telefonata fu interrotta. Era crudele, impossibile, aiutami, non abbandonarmi. Volevo richiamare e supplicare, ma mi fermai. La mia voce non avrebbe comunque raggiunto i miei genitori. Era impossibile per me, appena diciassettenne e appena diplomata, vivere improvvisamente da sola. Forse i miei insegnanti di scuola media mi avrebbero aiutato se li avessi implorati. No, sarebbe stato solo un peso. Poi mi venne in mente l'idea dei miei nonni. I miei nonni paterni vivevano nella stessa città, ma non li vedevo da circa dieci anni. Spesso sentivo mia madre parlare male di loro, dicendo che erano diavoli abbastanza grandi da tormentare persino lei. Qualcuno con una forte volontà. Potevo essere respinto alla loro porta, ma erano gli unici parenti a cui potevo rivolgermi. Ancora in uniforme e con un fiore di congratulazioni per il diploma appuntato sul petto, salii su un autobus e mi diressi verso la casa dei miei nonni, di cui ricordavo a malapena il volto. Sei tu, Sara? Sara, vero? Sei cresciuta così tanto. È da tanto che volevamo vederti. Appena ci vedemmo, mia nonna, con le lacrime agli occhi, mi abbracciò. Mi ero preparata a incontrare persone terribili, ma tutta la tensione si scaricò dal mio corpo all'istante. Poi le lacrime cominciarono a scorrere sul mio viso. Le emozioni che avevo inconsciamente trattenuto si riversarono fuori. Crollando all'ingresso, raccontai tutto ai miei nonni attraverso le lacrime. Il volto di mia nonna si contorse per l'emozione e non aveva parole. Mio nonno mi accarezzò dolcemente la spalla mentre si indiozzavo. Va tutto bene, non preoccuparti di nulla. I nonni che avevo immaginato come malvagi non erano affatto tali e in loro trovai la salvezza. Sara, non sei un fallimento. Sei una ragazza normale. Non trattenerti, vivi come vuoi. Da allora vivo con i miei nonni. Da quando sono arrivata a casa loro, non mi è mai stato detto di no. Ogni volta che mi rivolgo ai miei nonni. Mi incoraggiano sempre a fare un tentativo. È così che mi sono ritrovata a indossare una gonna al ginocchio svolazzante per la prima volta a mia memoria. Sara, sei adorabile. Ti sta benissimo. Un misto di timidezza e gioia mi riempì il cuore fino all'orlo. Non avevo mai saputo che il semplice fatto di indossare abiti che mi piacevano potesse far danzare il mio cuore in questo modo. I miei nonni mi accettavano, a prescindere da tutto. Quando mi tingevo i capelli di marrone, mio nonno mi salutava con un ciao. Quando ho comprato dei pantaloni con le ginocchia strappate, mia nonna, preoccupata, ha aggiunto delle applicazioni e io ho pianto di nascosto. Avevo risparmiato i soldi del mio lavoro part-time per comprare una macchina da cucire e la mattina di Natale ho trovato una macchina da cucire di alta gamma accanto al mio cuscino. Ero sorpresa che Babbo Natale fosse venuto a prendermi a questa età. Tutti questi sono ricordi preziosi per me. Vivendo senza restrizioni, ho frequentato una scuola di moda dopo essermi trasferita dai miei nonni. Durante questo periodo ho lanciato il mio marchio. Creo le belle gonne e i pantaloni in denim che ho sempre ammirato. Anche se mi concentro sul design, non è tutto. I miei capi sono fatti per essere facilmente indossabili da tutti, indipendentemente dall'età, dal sesso, dalla salute o dalle difficoltà fisiche. Ora ho 27 anni. Il lavoro va bene e conduco una vita appagante. Ma all'improvviso il cielo cominciò a essere minaccioso. Sara, è passato tanto tempo. Mia madre mi accolse a braccia aperte. Sembrava che fosse rimasta in agguato davanti alla mia azienda. Feci un passo indietro, ma lei fece due grandi passi verso di me. Guardandomi intorno in cerca di aiuto, notai che c'era anche mio padre, che sorrideva e si grattava la testa. Sara è diventata così rispettabile. Questa è la tua azienda, giusto? Tua madre ha sempre creduto che saresti diventata grande. Sono passati dieci anni da quando la mia famiglia mi ha abbandonato. Non avevo alcun desiderio di una toccante riunione. Avevo intuito il motivo per cui i miei genitori si presentavano davanti a me proprio ora. Recentemente ho avuto un'intervista televisiva. Si trattava principalmente dei prodotti offerti dalla mia azienda, ma sembra che i miei genitori siano stati colti di sorpresa dal fatto che Sara è l'amministratore delegato. Davvero impressionante. Dopo averla vista in tv, ho iniziato subito a informarmi. Il fatturato anno della tua azienda è di uno miliardo di dollari. Questo fa di lei una miliardaria? Esatto, non è vero? Tua madre è così orgogliosa di avere una figlia così straordinaria. Mia madre, emozionata, mi prese la mano. Viviamo di nuovo insieme. Siamo tornati dalla città. Mia madre strinse gli occhi con gentilezza, emanando un'atmosfera dolce e calorosa, che però non toccò affatto il mio cuore. Al contrario, sentii un brivido correre lungo la schiena. Mamma, eh. Inclinai leggermente la testa, mantenendo un tono leggero. Mi dispiace, ma per quanto mi riguarda non ho una madre. Cosa? Sara? Cercando di non appesantire troppo l'atmosfera, offrì un sorriso leggero per spiegare. Dieci anni fa sono stata abbandonata dalla mia famiglia. Mia madre, mio padre e mia sorella mi hanno lasciato. Quindi, non ho una madre. Mi è già capitato che compagni di scuola e altri mi chiedessero della mia famiglia. Dire che sono stata abbandonata il giorno del mio diploma di scuola media avrebbe sicuramente suscitato compassione. Così, scelsi di sorridere un po', facendo finta che il passato non mi desse fastidio. Che c'è? Sei arrabbiato? Ti aggrappi ancora a qualcosa che è successo dieci anni fa. Sei più vendicativa di quanto pensassi. Mia madre cercò di ridere, ma io mantenni il sorriso che riservavo agli estranei. Sono passati dieci anni. Quindi non sono più arrabbiata. Semplicemente non mi importa delle persone che per me sono irrilevanti. Gli occhi di mia madre si allargarono e la sua mascella tremò violentemente. Sembra che quando sia successo nella carriera o si vince il jackpot, i parenti in qualche modo si moltiplichino. L'unica scelta per coloro che brulicano intorno al denaro come mosche schifose è lo sterminio. Dopotutto, non posso affermare che la donna anziana davanti a me sia davvero la mia madre biologica. Nonostante siano passati dieci anni, il suo aspetto era molto diverso da quello della madre dei miei ricordi. Sara? Noi siamo una famiglia. Siamo legati da vincoli indissolubili. Per un attimo mia madre, che aveva alzato gli occhi al cielo, si ricompose e tornò ad afferrare saldamente la mia mano. Mh, il mio ricordo della famiglia è sbiadito. Quindi non posso dirlo con certezza. Ma tu non sei mia madre. La sua presa sulla mia mano si rafforzò. Senza cambiare espressione e senza mostrare alcun dolore, continuai con calma. Perché mia madre non è una donna vecchia e rugosa come te. La mano di mia madre, che aveva afferrato la mia, si allontanò di scatto e si coprì il viso. Mia sorella andò a New York per fare la modella. Ricordo che anche nostra madre aveva un alto senso della bellezza ed era diligente nella cura della pelle. Nonostante il passare dei dieci anni, mia madre, che aveva cinquant'anni, non poteva certo sembrare una vecchia signora. Con tutto il rispetto, lei ha settant'anni, vero? La donna emise un piccolo grido e il suo volto si contorse in segno di agonia. Le rughe sul suo viso sembravano approfondirsi ancora di più. Il suo brutto aspetto assomigliava a quello di una vecchia strega malvagia uscita da una fiaba. Anche se la trattavo come un'estranea, nel profondo sapevo che in lei c'era una parvenza di mia madre. Tuttavia, non si poteva negare che avesse un aspetto da settantenne. Il suo viso era coperto di rughe. La pelle delle guance si afflosciava come le guance di un bulldog. I capelli grigi spiccavano tra i capelli, che erano secchi e crespi. Aveva un aspetto più magro che smilzo. Le dita della mano che poco prima stringeva la mia assomigliavano ai rami secchi di un albero. Era molto lontana dalla madre moderatamente bella che avevo conosciuto dieci anni prima. Ingrato. Hai intenzione di ripagare la gentilezza che ti ha dimostrato crescendoti così? Sono la tua vera madre, senza dubbio. Che ne dici di mostrare un po' di pietà filiale, se sei una figlia? Mia madre si scagliò contro di me. Vedendo il suo stato disperato e la sua drastica trasformazione, era chiaro che doveva essere in difficoltà nella vita. Cosa intendi per pietà filiale? Chiesi a bassa voce. Sulle labbra di mia madre comparve un sorrisetto. Beh, sei un amministratore delegato, no? Quindi è naturale che tu sostendi alla tua famiglia. Sì, sostengo i membri importanti della mia famiglia. In questo caso, scostai la mano di mia madre, che sembrava così fragile da rompersi con uno schiocco. La mia famiglia è composta solo dai miei nonni, precisai. Cosa? Il resto della mia famiglia mi ha abbandonato, quindi non c'è alcun obbligo per me di mantenerli, giusto? Cosa? Non essere crudele solo perché hai i soldi. Non ti sto chiedendo di consegnarmi tutto il tuo patrimonio. Dammi sono ventimila dollari o qualcosa del genere. Dovrebbe essere sufficiente. Abbassai semplicemente lo sguardo su mia madre, che si aggrappava disperatamente a me. Cambiando tono di voce, cercò di giocare la carta della compassione. Vedi, Sara, tua madre è in difficoltà. Vivere in città è costoso e la situazione è difficile. Potresti prestarmi un po' di soldi? Dopo tutto, siamo una famiglia, no? Mi guardò con gli occhi pieni di lacrime. Ma purtroppo lo sguardo pietoso di una vecchia megera non mi commosse. Proprio mentre mi stavo stancando di trattare con lei, due figure si avvicinarono da dietro di lei. Cosa vuoi adesso? Mia madre si girò di scatto. Sono per trovare i miei nonni. Il suo volto si contorse visibilmente, chiaramente irritato. È sbagliato venire a trovare mia figlia? Sì, lo è. Mio nonno si intromise immediatamente. Hai una bella faccia tosta a mostrarti davanti alla figlia che hai abbandonato. L'hai abbandonata, vero? Non la vuoi più, vero? Per te è solo spazzatura, non è vero? È patetico aggrapparsi a quella spazzatura. Fatti gli affari tuoi. Chi avrebbe mai pensato che la spazzatura che abbiamo buttato via si sarebbe rivelata un diamante. Che cosa ridicola. Mio nonno incalzò, scoppiando a ridere, facendo indubbiamente apparire mia madre ancora più cattiva. Ma i miei nonni non erano i cattivi che mia madre faceva apparire. Li conoscevo bene per i dieci anni trascorsi insieme. Anche se ora mio nonno sembrava agitato, non aveva mai maledetto i miei genitori subito dopo il mio abbandono. Dopo aver calmato il nonno troppo sarcastico, mia nonna parlò con dolcezza. Abbiamo sentito delle voci su di te. Sembra che tu chieda soldi in prestito anche a parenti lontani. Avete problemi finanziari? Arrossendo, mia madre mormorò sottovoce. Sì, lo sono. Non ho soldi. Poi, un attimo dopo, esplose di frustrazione. Non ho soldi. E tutto per colpa di Marina. L'odio era scritto sul volto di mia madre. Nonostante il suo amore per Marina, qualcosa era chiaramente andato storto. Non c'era niente. Non ho ottenuto nulla. Non fa altro che spendere soldi in vestiti e cosmetici, senza mai ottenere un solo ingaggio come modella. Quella sanguisuga affamata di soldi. Una figlia inutile, esclamò mia madre, battendo il piede destro in segno di frustrazione. Mentre mi allontanavo dal suo insopportabile comportamento, una figura vestita di nero emerse dall'ombra di un albero vicino. Per un attimo pensai che si trattasse di un cinghiale che si lanciava all'attacco, facendomi battere il cuore, ma con mia grande sorpresa si trattava di Marina. Ehi! Mamma! Non osare insultarmi quando sono qui ad ascoltare in silenzio. Sono carina. Sono la più bella. Marina, con il suo respiro pesante, conservava a malapena una parvenza dell'aspetto di dieci anni prima. È vero che non hai un lavoro. Hai appena speso un sacco di soldi. Ma non è colpa mia. È perché le persone intorno a me non apprezzano il mio fascino. E, mamma, non mentire. Ho fatto qualche volta la modella. La difesa di Marina era valida. Nonostante vivessi una vita appagante, non riuscivo a scrollarmi di dosso il fatto che la mia famiglia mi avesse abbandonato. E spesso mi ritrovavo a controllare i social media di Marina. I suoi post erano pieni di foto meravigliose, ognuna delle quali mi faceva sentire peggio di prima. Eppure non riuscivo a smettere, non facendo altro che aumentare la mia infelicità. Ma poi ho notato qualcosa. Non c'erano né like né commenti sui post di Marina. A un'analisi più attenta, aveva solo sei follower. Mi è sorpreso che l'account di Marina sui social media avesse meno follower del mio trascurato account del passato. Inoltre, i commenti occasionali ai suoi post sembravano portare con sé una sottile malizia. Sbirciando nell'account, anche se il nome non era menzionato, era evidente che stavano postando commenti sprezzanti su Marina. Si comportava come una professionista senza alcuna esperienza. Orgoglio superiore a quello di chiunque altro. Ho sentito che hanno dovuto rifare le riprese per ore perché non riuscivano a far emergere il mio fascino in un servizio in cui non hanno nemmeno menzionato il mio nome. Non c'è da stupirsi che non riescano ad ottenere ingaggi come modelle. Nessuno vuole avere a che fare con persone così difficili. Perché parlano come se sapessero tutto? Sono una professionista. Cosa c'è di male nell'essere particolari? Al momento sei senza lavoro. Questa è la risposta. Scrutai attentamente il viso di Marina. La carnagione pallida, i grandi occhi che occupavano un terzo del viso, le labbra rosa. Il mento appuntito. Nessuna di queste caratteristiche corrispondeva alla marina che avevo di fronte. La marina dei social media era costruita su bugie e finzioni. Io sono diversa da quelle modelle ordinarie. Non ricorro alla chirurgia plastica e non a secondo gli uomini. Sono un vero affare, giusto? Non sono una modella di basso livello che si affida alle conoscenze per lavorare. Ho chiuso con quel mondo ridicolo. Nonostante fosse stata abbandonata persino da mia madre. La sicurezza di Marina era ammirevole. In un certo senso, non potevo fare a meno di rispettarla. Non mi sarei mai aspettata che la vecchia Sara diventasse presidente di un marchio di abbigliamento. È possibile che tu voglia usarmi come modello? Dai! Dimmi la verità. Vuoi favorire la famiglia, giusto? Ma se proprio insisti, Sara, potrei essere la modella per i tuoi vestiti, sai? La sua personalità super positiva era probabilmente dovuta a tutte le coccole che riceveva dai nostri genitori. Anche se ora è sicura di sé, è l'esatto contrario di me, che ho sempre vissuto a testa bassa. Se mi chiedeste se invidio Marina, esiterei a rispondere. La mia sorella maggiore come modello per il nostro marchio? Beh, dipende dalle condizioni, no? Potrei anche prendere in considerazione un contratto di esclusiva. Capisco. Ma, sa, il nostro marchio dà valore a un'atmosfera naturale. Vogliamo mostrare le persone così come sono, quindi potrebbe essere difficile per te, sorellona. Eh, ho controllato i tuoi social media. La persona sui social media e quella reale sono completamente diverse. Fai la modella senza alcun editing. Riesci a gestirlo? Gli occhi di Marina si allargarono così tanto che le ciglia finte si staccarono. La sua pelle, un tempo di porcellana, ora sembrava screpolata come la ceramica. Non ho intenzione di fornire assistenza finanziaria, né di usarti come modella, sorellona. Mi hai abbandonato, quindi per favore lasciami in pace. Dissi con fermezza? Voltando le spalle a mia madre. Marina mormorò, con la voce che tremava leggermente, chi ti credi di essere, con il veleno? A dire il vero, sapevo in anticipo che le mie madri sarebbero venute a trovarmi. Era tutto scritto sui social media di Marina. Diventeremo una modella esclusiva per una certa azienda, o quando tornerò nella mia città natale, tutti mi guarderanno di nascosto. Perché? Si capisce che sono una modella di città solo dalla mia aura? Era tutta pura fantasia. Anche se è imbarazzante da guardare, sono grata per questi messaggi, perché mi hanno permesso di tenere traccia dei movimenti dei miei nemici. Mi ero preparata all'arrivo delle mie madri oggi o domani, quindi sono riuscita a gestire la situazione con calma, senza agitarmi. Mentre stavo per uscire con i miei nonni, mio padre, che era rimasto in silenzio per tutto il tempo, sorrise e mi si avvicinò. Sara, tuo padre non ti ha fatto nulla di terribile. È solo una vittima che ha sempre avuto paura della tua volitiva madre e di Marina. In fondo, era sempre preoccupato per te. Tuo padre è al sicuro, vero? Le parole di mio padre mi colsero di sorpresa e non potei fare a meno di sentirmi un po' scosso. Eh, balbettai. Mio padre iniziò a ringraziare i miei nonni. Mamma, papà, grazie per esservi presi cura di Sara. Avete protetto la mia preziosa figlia e per questo vi sono grato. Ma d'ora in poi sarò io a sostenere Sara. Anche i miei nonni furono presi alla sprovvista. Poi la mamma alzò la voce con rabbia. Tu, stai zitto. Che tu sia qui o meno non ha importanza. Aveva ragione. Grazie a mia madre, tornai in me. Padre, sei altrettanto colpevole se non fai nulla, vero? Eh, è ridicolo. Marina e mamma sono state quelle che hanno attaccato direttamente. Non accomunare papà a quelle brutte donne. Papà, che cercava di tranquillizzarmi con un misto di timidezza e sorrisi. Era ripognante. Improvvisamente mi colpì il fatto che non nutrivo alcun sentimento nei confronti di quell'uomo. Era davvero insignificante, sia allora che adesso. Non iniziare a comportarti come un padre all'improvviso. Non c'è più bisogno di te nella vita di Sara. Mio nonno espresse con fermezza i miei sentimenti. Con aria imbarazzata, papà mise in atto la sua solita tattica di passare in secondo piano, scomparendo di fatto ancora una volta. Tuttavia, la madre, non volendo arrendersi, mi raggiunse debolmente. Con il suo aspetto anziano, appariva pietosa e con il suo aspetto strattonava le coscienze delle persone, il che era davvero efficace. Sara, mi dispiace davvero? È stata tutta colpa mia. Hai sempre vissuto seriamente senza lamentarti. Sei una bambina così rispettabile. Ho solo frainteso che non avessi bisogno del mio aiuto perché sei una bambina meravigliosa. Ora l'ho capito. La figlia veramente preziosa non è Marina, sei tu, Sara. Gli occhi lacrimosi di mia madre non mi lasciavano. Per quanto riguarda Marina, era riuscita a superare l'audizione per l'agenzia di modelle, ma invece di essere pagata per il lavoro, aveva finito per dover pagare dei soldi, tasse di iscrizione, lezioni e tutto il resto. Non è stata ingannata? Anche se tuo padre ha lasciato il suo lavoro ed è andato fino in città per mantenerla. E una volta arrivata lì, c'erano un sacco di ragazze più carine di Marina ovunque. Era impossibile che Marina diventasse una modella fin dall'inizio. La bocca di mia madre continuava a parlare, forse perché io ascoltavo in silenzio. D'altra parte, Sara, tu sei un presidente. Non è incredibile? Proprio come mi sarei aspettata da mia figlia. Più mi elogiava, più il mio cuore si raffreddava. Dovevo essere la figlia indesiderata, considerata un fallimento. No, no, ho mai detto che sei un fallimento, intervenne mio nonno, fingendo innocenza tra me e mia madre. A proposito di questo. È piuttosto singolare che tu dia del fallito a qualcun altro. Non sei stato tu a togliere la gamba a Sara. Mia madre si irrigidì. Non hai scambiato il pedale dell'acceleratore per il freno? Hai tamponato Sara che giocava in cortile con un'auto in corsa. Sia il cortile che l'auto erano un disastro. È un miracolo che Sara sia sopravvissuta. È successo decenni fa. Non c'è bisogno di rimangare. Mi hai già rimproverato abbastanza allora. Stai ancora cercando di fare il prepotente con me. Il motivo dell'allontanamento tra mia madre e i miei nonni divenne finalmente chiaro. Sembra che questo incidente sia stato la causa del loro litigio. Mia madre, che ancora oggi non mostra alcun rimorso, a quanto pare già allora si preoccupava solo dell'autoconservazione, sostenendo che le pause non funzionavano. Non ho schiacciato l'acceleratore, rifiutando di assumersi la responsabilità. Si trattava solo di lei, non del mio benessere. Anche se non me lo ricordo, posso immaginare come fosse mia madre all'epoca. Allora, questa gamba è stata colpa tua, mamma. No, non è così. Non ti ho investito perché ti odiavo. È stato un incidente. Oh, a causa di questo senso di colpa, ho finito per trattarti duramente. Sì, è tutta colpa di quel terribile incidente. Mia madre crollò in lacrime come un'eroina tragica. Francamente, dovrei essere io a voler piangere. Non potevi ammettere la tua colpa, vero? Invece di chiedere scusa per aver fatto qualcosa di sbagliato, continui a fare cose peggiori. Mi dai del fallito? Sei tu il vero fallimento. Non presentarti mai più davanti a me. I singhiozzi melodrammatici di mia madre cessarono. Mio nonno ridacchia dolcemente. La situazione è cambiata. Come ci si sente a essere abbandonati dalla propria figlia fallita, come genitore fallito. Mia madre tremava per la rabbia e la disperazione. Le lacrime scorrevano, ma sembrava incapace di parlare. Voltandosi, mio nonno mi mostrò un sorriso gentile. Andiamo? Sara. Faremo tardi per la nostra prenotazione al ristorante di bistecche. Andiamo subito? Non vedo l'ora di mangiare una deliziosa bistecca. La mia famiglia è composta solo dai miei nonni. In seguito, Marina è diventata una celebrità da un giorno all'altro. I like e i commenti aumentavano a dismisura. Sembra che quel giorno un passante abbia filmato la nostra discussione e l'abbia caricata sui social media. Fortunatamente, o sfortunatamente, il video mostrava a me che venivo maltrattata verbalmente, provocando una tempesta di critiche verso Marina e mia madre. Marina deve essere entusiasta di essere finalmente diventata una celebrità. Dimmi, Sara, per favore, spiegami che il litigio è stato un malinteso. Ma poi mia madre e Marina mi supplicarono. Per quanto io possa replicare, non faccio altro che aggiungere benzina al fuoco. Sara, devi fare qualcosa. Non posso fare nulla. Sono solo spazzatura che è stata buttata via. Mentre rispondevo con autoironia, Marina e mia madre fecero una scenata, inginocchiandosi e urlando di frustrazione. Non volevo essere coinvolta ulteriormente, così ho rafforzato la sicurezza della mia azienda per evitare di vederle in faccia. Inizialmente irritata dalla situazione, Marina, fedele alla sua natura superpositiva, ha approfittato dell'attenzione inondando di selfie i social media da lei identificati. La strategia sembrava essere quella di far diventare le persone fan di Marina. Anche se inizialmente stavano guardando e sui social media.